E vedete che non lo dice la Costituzione, lo dice la Costituzione, l'articolo 10 della Costituzione. Mai più fascismo, mai più guerre, questa invocazione dell'Italia libera subito dopo il 25 aprile. E in questo monito avevano in testa i Costituenti nel regigere la nostra carta fondamentale. Oggi, insieme alla liberazione, celebriamo i valori della Costituzione, il ripudio della guerra, l'ubaglianza, la giustizia sociale. E' una giornata di ricordo, ma deve essere anche l'occasione per riflettere, cari amici. E la domanda che mi porto è questa. Grazie.